Volevo far vedere qualcosa che non fosse un'illusione. Qualcosa di reale. Qualcosa che si vedesse e si toccasse. La creazione è un atto di assoluta volontà. La vita troverà il modo. Non possiamo tenerla qui per sempre. Se la trovano, non la vedremo più. Dobbiamo proteggerla. È il nostro compito. Umani e dinosauri non possono coesistere. Abbiamo creato un disastro ecologico. Ellie Sattler. Alan Grant. Non sei venuta qui solo per fare due chiacchiere, vero? Allora vieni o no? Stiamo andando verso l'estinzione della nostra specie. Non solo abbiamo perso il dominio sulla natura. Siamo sottomessi a lei. Ritorna. Io torno sempre. È un altro aereo, vero? Non proprio. Non muovetevi. Più grandi. Perché devono essere sempre più grandi? では, ciò. No! Non. No! 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 Grazie a tutti.